L'Europa è la vera chiave del nostro futuro, questo uno dei tanti pensieri che oggi e domani il gruppo consigliare del Partito Democratico di Pesaro ha voluto mettere in bella mostra sotto il Palazzo del Comune, nel loggiato e nel porticato del Comune. David Sassoli, ex Presidente del Parlamento Europeo e figura molto vicina a Pesaro, perché il Partito Democratico sceglie di dare questa rilevanza a questa ricorrenza? David Sassoli ha inaugurato la Sonosfera il 6 gennaio del 2020, perché proprio questo progetto della Sonosfera, come poi è stato ricordato alcune settimane fa in occasione dell'intitolazione della Sonosfera a Davide stesso, alla presenza della moglie, aveva intuito questo progetto anche in un'ottica di transizione ecologica, ambientale, temi molto cari a lui nella sua situazione di Presidente del Parlamento Europeo, per cui siamo vicini oggi a questa figura, nel primo anniversario della sua scomparsa, per questo motivo con cui è legato la nostra città, ma oggi vogliamo anche ribadire le azioni del suo pensiero e lo facciamo attraverso alcune letture e attraverso l'esposizione di questi pannelli, con foto e alcuni brani dei suoi discorsi, proprio perché la saggezza e l'audacia, che è il titolo del libro che è uscito l'altro ieri, presentato da diversi esponenti della cultura e della politica democratica, con una prefazione del Presidente della Repubblica Mattarella, veramente serve oggi più che mai l'audacia di un pensiero europeo che rimane vivo e nonostante le ombre dobbiamo continuare a proporre, a sostenere e a lavorarci tutti i giorni, per cui il ricordo di David oggi ci impegna a raccogliere la sua eredità per l'Unione Europea sempre più prospettiva del nostro futuro.